Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma code tra Firenze Scandicci e Firenze Impluneta e in uscita a Firenze Sud. In direzione Bologna rallentamenti tra Cisaregello e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e in direzione Firenze code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla Fibili rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e l'allacciamento a 1 di Firenze Scandicci in direzione Firenze e in direzione Mare code in uscita all'Astra a Signa e a Santa Croce. Sul raccordo Sena Firenze per lavori rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e Impluneta Greve Inchianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!